15 aprile venerdì santo Era l'ora nona Il tre del pomeriggio San Giovanni Evangelista dice Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse O sei te! E dopo aver preso l'accento Gesù disse E' compiuto E chi nato è il capo, consegnò lo spedito Adoriamo la morte di Gesù Ringraziamo per il suo amore che ci libera dalla morte Preghiamo perché il mondo sia liberato dal peccato, dalla guerra e viva in pace Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo numero, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come il cielo così in terra, dacci oggi il nostro buono quotidiano, rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E noi non abbandonati alla tentazione, ma io lascio il mare amo Per la libertà Per la libertà Per chi non è pace Per chi cerca la verità Non è più la verità Non è più la felicità Per chi non è più la felicità